ieri fabio ha continuato a parlare di me non so se lo sapete diciamo me l'hanno segnalato in tante persone a vedi che sta parlando di te vedi che sta parlando di te vedi che sta parlando di te ok io mi sono vista anche il freebooting mi sono vista tutto sì ovviamente retnix solo lui può avere questo tempo da perdere per parlare di me buonasera valerio buonasera no ragazzi seriamente parlando seriamente un attimino io voglio fare una piccola intro voglio dire un po la mia perché basta cioè nel senso premessa che non manterrà perché ha gente come lui ovviamente ragazzi infatti la cosa che vi sto dicendo è che non mi interessa parlare di lui faccio questa piccola intro per mettere un punto in tutta questa discussione non mi interessa più parlare di questa persona io ne ho parlato perché ho fatto quella live ragazzi perché come vi ho detto anche quel giorno che ho fatto quella live si è toccato un canale a cui io tenevo molto e ovviamente se lui parla di me a me non me ne frega un cazzo come vi ho detto a me mi sembra a me sembra ragazzi di essere stata molto molto educata nei suoi confronti invece cioè nel senso io ragazzi ho fatto una live in cui ho espresso il mio parere in maniera calmissima sobria e tranquilla senza attaccare sul personale ovviamente vabbè lasciamo perdere dico si sa che lui non ha fatto lo stesso con me ma a me non interessa ragazzi quando una persona parla di me sinceramente ne avevo parlato da cosa che volevo dire sulla questione anzi le uniche cose che volevo che voglio dire sulla questione sono due uno che ragazzi non ha senso da ricorda a lui ho fatto una live in cui dicevo il mio pensiero ma finirà lì io non risponderò più perché per me non ha senso proprio rispondere ragazzi ad oggi io non sono la ragazza di due dubbi nel senso siamo stati insieme ma ora non stiamo più insieme e questa è l'unica cosa che vi dirò perché sono cavoli miei cioè nel senso sono cose private io non ho mai messo alla luce questa cosa non ne ho mai parlato ma se ne parlo oggi ragazzi è per il semplice fatto che sinceramente essere etichettata ancora come la ragazza di qualcuno e io non lo sono a me dà fastidio poi come dice già marchino per attaccare te per attacca a me per arrivare a lui questa è una cosa che abbiamo notato ma in realtà non credo gliene freghi un cazzo a lui c'è il senso appunto se il suo intento è quello di attaccare me per arrivare a lui che lasci perdere questo intento perché non stiamo insieme e non abbiamo niente da condividere ecco quindi non funziona questa tattica Fabio se vuoi attaccare lui attacca lui grazie per il folle questo non siamo contro lo spero anzi ho fatto un ottimo risultato e lato live assolutamente infatti non sto dicendo nulla io ci tenevo solamente a dirvi ragazzi che siccome poi i commenti di quel video ha dubbi usato per la fama questo quello ragazzi no non l'ho mai fatto non ci tengo a farlo nemmeno adesso ed è per questo ragazzi che mi va di chiarire la mia vita cioè nel senso mi va di dirvi non è così ok perché sono una persona corretta e sincera e soprattutto ho sempre fatto tutto da sola non mi interessa